Immaginate di essere al centro di uno studio televisivo, dove ogni giorno nascono e si infrangono sogni d'amore. Ma cosa succede quando una delle protagoniste più amate decide di voltare le spalle a tutto questo? Ida Platano, l'icona di Uomini e Donne, ha preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Perché ha scelto di abbandonare la trasmissione? E cosa l'ha spinta a fuggire proprio davanti a Maria De Filippi? Se la curiosità vi divora, lasciate un like e iscrivetevi al canale per scoprire insieme il retroscena di questa storia appassionante. Ida Platano, una veterana di Uomini e Donne, ha sempre saputo tenere alto l'interesse del pubblico con le sue vicende amorose. Ma recentemente, un evento inaspettato ha sconvolto le dinamiche del programma, Ida è fuggita inaspettatamente dalla trasmissione Davanti a Tutti, con Maria scioccata dal comportamento. La tensione tra lei e Mario Cusitore, uno dei corteggiatori, ha raggiunto il culmine in una discussione che nessuno avrebbe mai previsto, culminando in un gesto clamoroso, la fuga di Ida dallo studio. Ma cosa è successo per scatenare questo putiferio in studio? Ida è venuta a conoscenza che Mario mentre corteggiava lei, si sarebbe visto anche con un'altra donna, in privato. Sui social. Mostra il tuo supporto a Ida con un like ed una iscrizione. Cosa avresti fatto al suo posto? Scrivilo nei commenti. Tuttavia, il colpo di scena non finisce qui. Dopo un momento di riflessione, Ida è tornata per un confronto acceso che ha sorpreso tutti, culminato poi con un bacio appassionato tra i due. Iscriviti ora per non perdere nessun colpo di scena di questo amore travagliato. Ida non ha ancora scelto. Cosa ne pensate di questa storia? Farà pesare questo comportamento nelle sue scelte future? Non perdete il prossimo episodio di questa incredibile saga d'amore.